Signore, aiutaci a conoscere noi stessi in profondità, evitando la superficialità e la leggerezza. Aiutaci a non essere bloccati dalla paura o dalla pigrizia. Fa che possiamo conoscere il progetto che tu hai su di noi e che sappiamo assumerci tutte le nostre responsabilità nell'attuarlo là dove tu vuoi, nelle situazioni concrete della vita, in ogni momento della giornata. Allontana da noi l'indifferenza, la preoccupazione egoistica del nostro oggi e insegnaci a investire i talenti che ci hai dato per affermare una vita nuova e costruire insieme una società pacifica, giusta e fraterna. Rendici capaci di valorizzare il tempo come occasione di crescita nel dono di noi stessi. Dacci il coraggio di essere umili protagonisti e non spettatori passivi. Solo così la nostra vita sarà davvero viva e noi saremo tuoi collaboratori per un mondo migliore nel tuo amore. Amen.